cosa mi hai dato? acqua! metto acqua io eh! frego un cazzo tanto questa cosa stessa cioè ma guardate dove cazzo si è fermata! oggi si oggi si ma cristoforo colombo ma vada via il culo va! un bicchiere che cacchio mi frega ma così devo dare un litro di vino eh! no qua non ce n'è più! finito! io porto per sicurezza sempre mezzo lì! ma figaro ma quando mai? no no io porto sega! ce l'ho sempre fatta niente a casa ma sai cosa? allunghi un po' il giro che cosa? no ma io prima avevo guardato la motosega adesso con questa elettrica ciccia eh non c'è neanche più quella cioè ma pensateva dove cazzo si è fermata! ma cazzona di una! figaro non poteva fare 10 metri in più no? ma vada via il culo! si adesso sarà secca! eh! ma! cioè! prova da non credere ora! veramente figaro! oh cazzarola ho! oh cazzarola ho! assolo qui Spirito! eppure vi cazzarola ho! si non è non è che ciao asシルク Grazie a tutti. La sigelina B resta pronta. Grazie a tutti.